Buongiorno a tutti, sono Alessandro Delladio, ho quasi 18 anni, sono nato a Pietra Ligure, attualmente viva Calice Ligure nell'entroterra Savonese, frequento l'istituto alberghiero Migliorini di Finale Ligure, indirizzo sale e vendita al quarto anno. In questi anni precedenti ho effettuato degli stage a Finale Ligure presso l'hotel internazionale, il bar Moroni e l'hotel Residence Lano 2 Village. Il mio sogno futuro è quello di aprire un bar di mia proprietà. Sono uno dei ragazzi candidati all'Expo 2015 di Milano e mi impegnerò al massimo per sfruttare questa occasione offerta dalla mia scuola.